Parliamo poi di capilene, tessuti tecnici? Sì, assolutamente, parliamo di intimo capilene che non è più solo intimo perché ormai i capi sono studiati anche per portarli come capi esterni e soprattutto hanno una componente di protezione ai raggi solari del 15-30% a seconda della tipologia, quindi i capi assolutamente, ripeto, perché hanno protezione al sole, si asciugano velocemente e trasferiscono il sudore verso l'esterno.